Episodio 15 del corso di Laravel, cominciamo a parlare dei form, perché i form saranno poi la base per la registrazione, il login, il logout e quant'altro. Sono sicuramente una parte fondamentale quando lavoriamo con Laravel, che siano applicazioni web, single page, quello che volete. Spesso avremo a che fare con form, registrazione e quant'altro. Quindi oggi partiamo dalla validazione delle richieste, che è legata in questo caso al form, quindi sono da creare un form di prova, adesso vediamo. Però in realtà la validazione delle richieste può essere a prescindere da un form, noi potremmo validare una richiesta sia che arrivi da un form che altro, non è assolutamente quello un problema. Quindi partiamo col validare delle richieste, sfruttando un form e poi dal prossimo video parleremo effettivamente di form. Quindi molta roba che vedrete qua in form blade php, la vedremo nel dettaglio dal prossimo video in poi, quindi non preoccupatevi. Però intanto andiamo a mettere già le basi. Allora, che cos'è stato fatto off camera? Dunque, se prendo qua, vedete la nostra get per l'home page, l'ho chiamata name home, dovrebbe essere un'aggiunta che ho fatto che voi non avevate. Dopo che ho aggiunto la view form, quindi anziché avere la home page di sempre, vedete la home così, questo è il contenuto della pagina home. In realtà sono andato a creare form blade, che è questo qua. Semplicemente una pagina HTML con un form, con scritto la prova di validazione dei dati. Abbiamo qua delle direttive sugli errori, quindi qualora la nostra sessione avesse degli errori, ma ne parleremo meglio dal prossimo video in poi. Qual for it ce lo sappiamo, quindi per ogni errore che ci capita manda a schermo l'errore. Non sappiamo ancora come ci arrivano gli errori, ma sappiamo bene cosa sono ste cose qua. Abbiamo poi il nostro form action, che punta alla route validate form, che è web route validate form qua sotto. Adesso ci arriviamo. Torniamo sul form, abbiamo qua il nostro form. Vedete che c'è una strana direttiva CSRF, che vedremo dal prossimo video in poi. Abbiamo qua dei valori. C'è sito old, vecchio name, eccetera. Potreste già capire se questo è il nome, è name, e vado a mettere il vecchio name. Qualcuno di voi potrebbe già intuirlo, ma non preoccupatevi, sempre pane per il prossimo video. E niente, questo è il bottone submit, che automaticamente manda al validate form. La richiesta arriva quindi al validate form, scusatemi, sì, route validate form, che è nominata. Il nome validate form è questo, di conseguenza va su slash form. E cosa facciamo quando arriva? Andiamo a chiamare validation controller e andiamo a validare il form. Quindi apriamo validation controller e abbiamo validate form. Prendiamo la richiesta, qua facciamo quello che dobbiamo fare, validiamo e se va tutto bene, rimandiamo alla home con il successo. Ok? Niente di incredibile. Questo è il nostro form, proviamo a riempirlo, sapendo che la password deve essere minimo 8 caratteri. Ok? Facciamo minimo 8 caratteri confermata. Quindi io vado qua e scrivo un nome, ad esempio il buon Luca. Mettiamo Luca Rossi, chiocciola, esempio, punto. Provo a fare invio e vedete che questa è la validazione lato HTML. Niente di che. Ok? Benissimo. Quindi noi continuiamo, punto it, provo a fare invia e vedete che è successo qualcosa. Abbiamo questa cosa qua, che non è pure HTML. Come potete vedere, ci dice che age, quindi l'età è richiesta e password è richiesta. Continuiamo. Quindi andiamo a mettere l'età, facciamo che ha 23 anni. Come password mettiamo qwerty, che è meno di 8 e confermiamo che è meno di 8. Ups, facciamo invio. Come vedete ci dà degli altri problemi. La password deve essere almeno di 8 caratteri e la password e la conferma password non matchano. Va bene? Questi errori, da dove arrivano? Andiamo a vedere. Se passiamo qua sopra, abbiamo alert, alert danger. Quindi è esattamente la roba che abbiamo visto in form blade. Questa qua. Vedete? Quindi automaticamente se ci sono degli errori, nella richiesta che abbiamo mandato, ci ritorna l'errore e ci manda, ehi, c'è un errore. Avremmo potuto fare anche la versione di successo, quindi se è andato tutto bene, se è filato tutto liscio, possiamo mandarlo a schermo. Non stiamo a complicare per ora le cose perché voglio concentrarmi sulla validazione. Quindi avete visto che io ho mandato il form, ho creato apposta degli errori e quando sono comparsi degli errori, me li ha mandati qua a schermo. Benissimo. Andiamo però a vedere cosa è successo. Se noi andiamo in validazione, cosa succede? Viene chiamata validate form e viene fatta appunto una validazione. Qua abbiamo i dati validati, che potremo poi usare per fare altre cose. Vedete? Se la validazione passa, puoi continuare con la logica. Quindi ho messo qua un commento per far vedere che se la validazione continua, possiamo fare altra logica e poi eventualmente fare il return di successo alla home dove volete andare. Ma concentriamoci su questa parte qua dentro. Come vedete noi otteniamo la richiesta, giusto? Quando mandiamo il form, mandiamo una richiesta http post, giusto? Andiamo qua sotto a vedere. Post http slash form. Benissimo. Che cosa facciamo? Viene presa questa richiesta e viene chiamato il metodo validate che ci dà direttamente l'Aravel. Quindi qua dentro andiamo a specificare i campi che vogliamo validare. Non siamo obbligati a metterli tutti, ma in questo caso li abbiamo messi. Allora abbiamo messo i campi che vogliamo validare e come li vogliamo validare. Mentre qua davanti form, se andiamo a vedere qua type email, vedete che ci dava l'errore sull'email, oppure se io andassi a fare qua required, tutta sta roba qua è lato frontend, ok? Ma la roba frontend è facilmente evitabile. Perché? Vi faccio vedere. Io vado a fare required. Vado qui. Quindi, aggiorno, provo a inviare, vedete che mi dà compila questo campo. Nessun problema. Io vado qui, faccio così, vedo che qua c'è required, tolgo, faccio invio e vedete che non mi dà più rogne. Quindi come potete vedere la validazione frontend funziona sull'utente normale, sull'utente medio che non programma, che non sa niente di programmazione, ma sull'utente un po' più sgamato, la validazione così non funziona. Quindi serve una validazione lato backend, una validazione lato Laravel in questo caso, dove andiamo a prendere i dati che ci vengono mandati e andiamo a verificarli. Che cosa abbiamo messo? Abbiamo messo che il nome deve essere required, quindi è obbligatorio, deve essere una stringa e deve essere massimo di 255 caratteri, ok? Quindi per andare a separare le regole, queste sono tutte regole, andate ad utilizzare la pipe. Questa è la pipe. Come la fate? Con il tastino a sinistra dell'uno. Se fate mayusk e il backslash dovrebbe essere, se faccio solo il backslash mi esce questo, se faccio mayusk backslash mi esce il pipe, ok? Quindi required è una stringa, massimo 255. Per l'email facciamo required è email, giustamente Laravel è fuori da tanto, sa che lavoriamo con l'email, hanno già la formattazione per l'email, non dobbiamo scrivere a noi se il pattern matcha dei caratteri at altri caratteri, punto qualcos'altro, va bene? Già tutto fatto. Arriviamo poi su age, che è la nostra età, è chiaramente obbligatoria, è un intero, deve essere minimo 18, massimo 100. Perché? Perché non accettiamo giustamente minorenni e oltre i 100 anni non ti accettiamo. Dopodiché abbiamo la password, noi avremo password e confirm password, ma lo vedremo meglio nei prossimi video. Abbiamo la conferma e gli diamo un nome particolare, vedete password e password confirmation. Col fatto che noi andiamo a chiamare questa cosa qua col name password e password confirmation, stiamo andando a dare a Laravel un qualcosa di specifico. Stiamo dicendo che questo campo è la conferma di questo campo. Quindi, se poi andiamo qua sulla validation, e abbiamo che password non solo è required, obbligatoria, non solo deve essere una stringa, non solo deve essere minimo 8 caratteri, ma deve essere confirm, confermata da cosa? Dal campo che è sotto password confirmation. Quindi questi due campi devono essere uguali. Di conseguenza questi due campi vengono visti come un unico campo, ok? Come un unico campo password. Sostanzialmente questa è la validazione. Quindi arriva la richiesta, la richiesta viene validata, se va tutto bene, nessun problema, se non va tutto bene, ci viene rimanato indietro l'errore. Riproviamo, facciamo così, abbiamo visto che c'era l'errore, quindi proviamo a fare Edoardo, email, tatatata, at, ups, at, tatata, facciamo invia. Vedete che i dati persistono, è importante questa cosa, ne parleremo meglio nei prossimi video, ma ricordatevi che persistono i dati, così ogni volta non dobbiamo riscrivere. Come età mettiamo 13 anni. Come password mettiamo qwerty, u, i, o, p, è rilevante. Inserisco ancora la password. Faccio invio. Ah, giusto, devo essere meno 18. Che babbo che sono! Ok, l'ho appena letto e l'ho appena letto, vergogna me. Volevo fare il simpatico e mi è costato un errore. Rimetto la password, faccio invio e vedete che è a posto, ok? Avrei potuto rimandarci alla pagina personale, avrei potuto rimandarci a questa pagina con scritto è stato creato con successo, potevo rimandarci alla pagina personale, con scritto è stato creato con successo, quello che volete. L'importante è che non abbiamo più nessun errore, quindi funziona. Ora vi ho preparato una lista di tipi di validazioni. Ste robe qua poi saranno disponibili sul sito codegrime.it, andrò a fare la documentazione di Laravel nel dettaglio, quindi potete fare riferimento lì, potete chiedere a c'è GPT, potete impararli a memoria, alcuni vi resteranno in testa perché sono comunque molto semplici. E quindi vediamoli velocemente senza leggerli tutti, anzi senza vedere effettivamente cosa fanno tutti, però Accepted, il campo deve essere accettato, quindi deve essere una checkbox. Abbiamo Active URL, il campo deve essere un URL attivo, quindi un URL HTTPS, due punti, slash, slash, eccetera. Il campo deve essere una data successiva, oltre a quella specificata, quindi After e mettiamo la data. Abbiamo poi After All, Equal, Date, quindi deve essere uguale o successiva. Abbiamo deve essere alfa, deve essere alfa, quindi avere numeri, lettere, trattini e underscore, alfa numerico, solo numeri e lettere. Deve essere un array, abbiamo boolean, deve essere compreso tra, prima uguale alla data, prima della data. Abbiamo il fatto che deve essere confermato, l'abbiamo già visto, deve essere una data, una data uguale a, una data formattata in un certo tipo. Deve essere diverso da un altro campo, deve essere un certo numero di digits, le digits sono le cifre, quante cifre deve essere, cifre tra, Deve essere email, deve esistere, nella colonna specificata della tabella, lo vedete, deve essere un file. Il campo deve avere un valore, deve essere un'immagine, deve essere compreso tra questi valori. Un intero, deve essere un IP, deve essere un JSON, massimo valore. Deve essere un file, tra i tipi specificati, quindi quando caricheremo file. Il campo può essere vuoto, quindi potrebbe essere nullable, quindi se passiamo vuoto non è un problema. Numerico, regex con un certo pattern. Required, deve essere required if, quindi andiamo a mettere... Il campo è obbligatorio se un altro campo ha un valore specificato. Ad esempio potremmo mettere... Se hai 18 anni, andiamo un attimo a vedere. Se hai 18 anni, non succede niente. Se invece hai meno di 18 anni, facciamo così, hai 7 anni, compare un nuovo campo che è tipo firma del genitore. Se io dico che ho 7 anni, allora firma del genitore è required if, ok? Una cosa del genere. Abbiamo same, che deve essere uguale al valore di un altro campo, la size, che è la lunghezza, deve essere tipo stringa, timezone, deve essere un evoco, deve essere un url o deve essere un uuid. Dovrebbe esserci poi altra roba. Questo vi fa capire come noi possiamo andare letteralmente qua e ogni volta che andiamo a fare un validate mettiamo le regole che abbiamo visto velocemente. Ma adesso avete capito il discorso, quindi possiamo andare a fare veramente tante cose. Questo è il discorso di validazione delle richieste. Non incredibile, un concetto semplice. Mando una richiesta, voglio validarla. Se i dati che mi vengono passati sono buoni, sono ok, è tutto ciò che mi serve e non ci sono problemi, proseguo, faccio logica eccetera e vado avanti. Altrimenti torno indietro e ti mando anche degli errori nel caso lo voglia fare. Va bene? Quindi direi che noi possiamo salutarci qua perché poi dobbiamo andare a preparare il form perché facciamo la registrazione. Quindi io taglio, ci vediamo tra poco, preparo il form di registrazione e appunto vediamo tutto ciò che dobbiamo sapere su CSFR, old e quant'altro. Ci vediamo tra poco.